Sono la New Entry di quest'anno, sono Daniele Bottesi. Hai detto bene, si cresce e c'è bisogno di organizzare durante la crescita. Non nascondiamo che l'annata è particolare per noi come per tutti, ma non vogliamo cedere a questa particolarità, se vuoi, negativa. Noi abbiamo la grande possibilità di agire su un enorme territorio, quindi vogliamo sfruttare questo privilegio per avere una base solida di bambini. L'aspetto organizzativo è fondamentale dal punto di vista burocratico, dal punto di vista logistico, dal punto di vista della giusta suddivisione dei gruppi, in affiancamento, oserei dire, quotidiano al responsabile Jacopo Oneto e Michela Bracco, che è un'altra New Entry di quest'anno. Un altro dei tuoi compiti è anche in chiave tecnica con dei giovani, in particolar modo gli scogliattoli, ma non solo, da seguire, da aiutare a migliorare settimana dopo settimana. Hai detto bene anche qua, io come capo istruttore ho gli scogliattoli, cioè i bambini nati, 2012-2013, e per quanto riguarda le giovanili il gruppo Under 13 Elite. È un discorso anche qui, prima di tutto, organizzativo, come spazi palestra, come aspetti tecnici, come aspetti ludici, soprattutto per gli scogliattoli che sono in un'età dove il basket gli deve piacere, si devono divertire, avere la voglia di stare insieme più che avere un aspetto tecnico. Quindi diamo importanza all'aspetto ludico sulle fasce di età basse per poi crescere con le giovanili e le prime squadre, quando sarà il momento. Hai citato le prime squadre, ti occupi della loro preparazione fisica? Sì, faccio anche questo. In questo momento mi sto occupando della preparazione fisica sia della prima squadra femminile, quindi B, che della squadra maschile serie C. I ragazzi e le ragazze hanno voglia di lavorare. Il preparatore fisico è una figura non facile da integrare, ma se si riesce a creare un contesto di staff unito come sta effettivamente succedendo, il risponso c'è sul campo, si vede. Infine, dei tanti compiti che ci sono stati affidati, anche la Coppa del Porto, evidentemente una manifestazione che è il fiore all'occhiello del basket Pegli. Si lavora a strettissimo contanto con gli istituti comprensivi e le referenti di plesso di ogni scuola del circondario. È ovvio che ci sono dei punti interrogativi, perché bisogna rispettare giustamente dei regolamenti anti-Covid severi. Ma noi tuttora siamo in contatto con molti plessi che vogliono comunque partecipare alla Coppa del Porto. Noi siamo contenti di questo spirito di volontà. È chiaro che è un argomento che ancora non ha un finale definitivo. Non possiamo saperlo fino all'ultimo visto la situazione di contagi variabile. Ma vogliamo essere pronti perché l'avvenimento della Coppa del Porto avvenga, assolutamente.